Dovranno essere rivisti i programmi dei progetti finanziati con fondi POC 2014-2020 relativo all'intervento su linea strategica, rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Con decreto dirigenziale datato a 9 agosto, infatti, la Giunta regionale della Campania ha rivisto tutti i finanziamenti destinati agli interventi che avevano inizialmente ottenuto un finanziamento pari a 70.000 euro attraverso il decreto dirigenziale numero 266 del 29 luglio scorso. A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del primo decreto, la Giunta regionale ha rivisto le somme riducendo gli importi per poter finanziare tutti i progetti presentati. Con decreto dirigenziale numero 282 del 9 agosto scorso, diversi progetti a cui erano stati riconosciuti i fondi per 70.000 euro, si ritrovano ora con un budget decisamente inferiore rispetto a quanto preventivato. Di contro, diversi eventi inizialmente esclusi dal finanziamento possono ora contare sul riconoscimento dei fondi. Dei 107 progetti inizialmente finanziati nell'ambito dell'azione 3, nel nuovo decreto risultano 166 progetti finanziati per un importo ciascuno di 45.500 euro. Dopo una iniziale esclusione, si ritrovano ora inseriti tra i beneficiari del progetto anche i comuni di Corletto Monforte per l'evento della festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza, Laurino per il progetto di Jazz in Laurino e Ottati per l'evento Ottati Etno Music Festival. Intanto però diversi comuni che avevano realizzato programmi nella convinzione di poter disporre di finanziamenti pari a 70.000 euro, si ritrovano ora costretti ad effettuare un ridimensionamento degli stessi progetti. Programmi di eventi per il periodo giugno 2019-giugno 2020 che potrebbero subire delle variazioni da parte dei comuni destinatari dei fondi relativi all'azione 3, quali Sala Consilina, Sassano, Polla, Teggiano, Sanza, Padula, Montesano sulla Marcellana, Aulette e Pertosa, che si sono visti ridurre il finanziamento del 35% delle risorse al fine di poter finanziare altri eventi sul territorio regionale. Ad aver annunciato già modifiche al calendario di appuntamenti il Comune di Sant'Arsenio. La decisione della Regione Campania, spiega il Sindaco Donato Pica, di ridurre del 33% i finanziamenti già concessi sul POC 2019-2020 e le successive disposizioni impartite dall'ente provinciale per il turismo hanno determinato l'obbligo per il Comune di rivedere integralmente il progetto già approvato di cui all'apposita delibera di giunta municipale. Ci scusiamo, conclude, per quanto verificatosi con l'impegno di ripresentare in tempi brevi un nuovo progetto aggiornato ed integrato.